Un questionario ed ora un ciclo di webinar che la provincia di Belluno vuole proporre all'impresa il mondo del lavoro nell'ambito del progetto Digital Innovation Hub, finanziato con i fondi dei comuni di confine. Una proposta costruita con Confindustria Belluno Dolomiti e la fondazione ADAPT di Bergamo, che vuole permettere ai destinatari di abituarsi il più in fretta possibile alle novità strutturali nella gestione dei rapporti di lavoro. La provincia si è impegnata nell'ambito del progetto Digital Innovation Hub a sostenere dei percorsi che supportino i nostri giovani, le aziende, attraverso anche la scuola, in nuovi percorsi. Il Covid-19 ci ha sconvolto la vita, ha rivoluzionato tutta la nostra vita e il nostro modo di lavorare, per cui dobbiamo cogliere l'opportunità di una ripartenza attraverso delle azioni che vadano da un questionario sviluppato da ADAPT, che verrà sottoposto alle aziende per capire quali sono le nuove professionalità e i bisogni di queste aziende, ma soprattutto sulla formazione. La formazione attraverso questi webinar che inizieranno a fine mese, che sono totalmente gratuiti e che sono aperti a tutti. A tutti significa al mondo del lavoro, agli studenti, agli inoccupati, a chi vuole comunque formarsi per essere pronto ad affrontare il futuro. Cinque le tematiche trattate e declinate nell'ambito della gestione di rapporti di lavoro nell'emergenza Covid. Dai tempi di lavoro tra flessibilità e riorganizzazione agli ammortizzatori sociali. Dai welfare aziendale alla sfida della salute e sicurezza sul lavoro in contrasto alla pandemia. passando per la gestione degli apprendisti e tirocinanti. Le iscrizioni saranno raccolte da ADAPT tramite un modulo da compilare sul sito www.bollettinoadapt.it